con Dado Moroni, Riccardo Fioravanti e praticamente il primo concerto del tour lei si dimentica il mio cognome, si ricordava ovviamente Stefano però il cognome no, per cui lei ha preso la palla al balzo e mi ha presentato Stefano Brushman allora da lì, agile fisicamente che non in quest'altro modo dove chiaramente l'effetto viene ugualmente ma lavorando molto di più con tendini e muscoli inutilmente quindi la prima cosa che indico solitamente ai miei allievi è che se si avvolge 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,1,2,1 1,2,1,3,3,4 1,2,3,4